TZ Touch seconda generazione. Adesso vi mostro qualche caratteristica del menu. Il menu è semplicissimo, interattivo. Si utilizza lo schermo che è un multi touch. Questa è la simbologia che rappresenta la cartografia. Un semplice tocco ed entriamo sulla carta. L'ecoscandaglio. Il radar. La gestione delle telecamere. La pagina meteo. Il modulo DFF3D. Abbiamo la possibilità anche di creare da soli le schermate più interessanti, dove per esempio in questo caso vi faccio vedere anche la schermata riguardante i dati motore o navigazione. Nel TZ Touch tutto è molto semplice. Anche accedere al menu. Con un semplice scorrimento del dito dall'alto verso il basso, mi ritrovo di nuovo tutte le schermate principali a portata di Touch. Che dire? TZ Touch, seconda generazione. Un piacere all'embarco.